Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Nadia e oggi siamo tornati sul Hellenable. SIIIIIIIIIIIIIIII! Allora ho completato già un minigame, quello della spesa, e adesso direi di mettere questo sceme che ho scoperto ieri, si può mettere nel terreno, ok ho messo, adesso devo innaffiare, Dov'è il minacciatoio Oddio Ecco, ecco, ecco Poi lo devo ripire Non mi dire che mi vedi Io me ne vado, ciao Me ne vado Io ti faccio i regali E tu non li vuoi? Ora, madonna che sacco Fucia! Volevo Bello che sei Cos'è successo? Ok Non l'ho capito Perché? Cioè, io l'ho riempito Ah, ok Praticamente, ragazzi, devo tenere premuto Cioè, ho finito l'acqua Fatima Ok Adesso dovrebbe crescere qualcosa Vero? Vero? Aspettiamo un po' Non mi sembra, eh, però Allora Non cresce qualcosa Non cresce qualcosa, no, eh? Eh, vabbè Dobbiamo iniziare ancora un po' Iniziare Grazie Grazie Grazie, vicino Ti faccio i regali E tu non li accetti Passato Eh, in effetti qualcosa Comincia a crescere Guardate E un albero Cioè, mi scompascio l'innaffiatore Prima Ok, direi che può bastare Innaffiatore Volevo Pian piano dovrebbe crescere qualcosa Quindi aspetteremo Però prima pensiamo alla beta Allora Ok Che non c'è un finale Ma voglio aprire lo stesso qua Porta A tutti i costi No No, io no E io me ne vado a casa Ciao Sì, sì Me ne vado Mi mangio qualcosa Anche è vero che c'avevo la torcia Allora Non pensiamo alla torcia Ma pensiamo alla beta Allora, come facciamo ora? Eh, oh mio dio Che bella casa Che è questa Più bella Delle altre Ma è ma che ci posso investire Oppure no Non capisco Dobbiamo solamente aspettarne Eccola L'ho mancata L'ho mancata di un vero Chi è te? Voglio sperimentare Quello che è Dov'è una macchina? Che la voglio La voglio come regalo Ma lo c'è Vabbè andiamo dai Come faccio Invespire Pescemo dopo Allora Beh, è possibile Giocare Adesso ho potuto Spettere Come Non è che me lo trovo Può avere Oh Che calcosa Vabbè tanto Questa Non mi serve più Mi serve questa Ma andiamo Prima apriamo Sto cancello Che c'è un bello Ombrello Ok Adesso andiamo Io Beh Io Oddio Ah è vero Che in quella specie C'era Un Piedi di porco Che dove entrare Per forza Allora Che pade Dai No Con che cosa Con niente È chiusa Ma come fa Ad essere chiusa Ok Questa cosa è veramente strana Il buchetto Quanto pare si è buggato Perché non posso prenderlo Quindi dovrebbe stare nella porta Ok Questa cosa è veramente Stato strana Perché poi La chiave La chiave era dentro Che Come faccio Come faccio A mettermi in situazioni simili Dove ho trovato un modo Per andare sul tetto Io pensi che si stia avvicinando i vicini Questa è un'altra La chiave c'è sempre lì aspetta aspetta trenino vieni qua vieni qua trenino ti devo rimettere aspetta questa è la stanza della fiume verde come fanno con il scatto esattamente a stare lì non capisco vabbè questa è una porta che non porta a nulla certo ma perché no tanto ci siamo abituati a vedere cose che non portano a nulla ok no wow no 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 perché mondo vi fa questo perché ho fatto di male dai che è invece il più vangato della storia no no sono caduta a che c'è questo scappo ma se devo mettere più avanti ma che so dai per dio dai oh dio santo no no ce l'avevo fatto accidente se ho picco bordo dove mi devo appuggiare il problema è che non ci riesco non ci riesco ok adesso dovrebbe funzionare stupido ma che cos'è mai c'è bello che non va c'è un robot come ivy dai per dio ok no ok no dai io salto oh finalmente ma solo sta sta beta ti diverti ti fa anche arrabbiare un bel po' eh eh DIO e devo mettere più avanti o c'è verso eh c'è ancora non ci fa non ci faccio arrivare nessun altro modo è per forza dai dai io ci posso mai credere ciò avete perché voglio fare un minicchiocco tutto questo per un minicchiocco oh ecco finalmente credo eh credo no eh questa cosa è veramente difficile allora ok raga la situazione sta diventando difficile non capisco come posso arrivare qua a cavo in stanza ok no ma non cadete scatole del cacchio spazzogna di quella madonna dai no ma che cacchio ma smettetela di cadere come delle palle inutili ma siete ritornate allora che cacchio ma no io ragazzi le metto come dovrei cioè è giusto quello che faccio il problema è che il gioco mi dice che è sbagliato ok piano piano e no e no ma che palle non so c'è dove mettermi avanti non so dai per dio ma non si può ma non si può essere così baggati nella vita nella vita dei giochi dai dai mio santo ma quanto è difficile allora allora se si vuole arrivare oppure no in questa cacchio di stanza inutile vattene vattene e ma no che palle no 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 ok ok dai no filamente no la mia chiave maledetto maledetto devo assolutamente trovare un modo per fermare il mulino perché è da lì che faceva qualcosa c'è da lì che non riesco a prendere più niente non riesco a prendere più niente trovano pagata dai mi devo suicidare non vorrei fare da dove sei arrivato tu mi devo suicidare ciao modo più bene ma che cacchio ragazzi non riesco più a fare niente che non riesco a prendere niente ebbe che vale dai ma come si fa eh niente ragazzi il gioco è ipacito stranamente c'è veramente mi si è baggata la mano ma dai che palle sti bag c'è non riesco a prendere più niente lo giuro perché c'ho la mano baggata la mano baggata c'ho perché c'ho andato in quel posto io odio sto gioco io odio sto gioco cioè non riesco a prendere neanche te cane ma io non so che c'era qualcosa eh lo giuro e niente ragazzi lo devo iniziare da capo quindi quando tornerò in questo punto ehm inizierò la serie comunque spero che questo video vi sia piaciuto è stato un bel mi piace e iscrivetevi e ci vediamo poi sempre al prossimo video ciao ciao